.... .... .... .... .... .... ... Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto di sport, non so se lo so, vicino. Quando prendi il piatto, voi, qui. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Bravo! Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Allora, l'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. Lo sposte è lì su questo aspetto. L'attacca intermedia per la mano destra è lì su questo aspetto. No, non lo sento perché... Poi dice qua... Vale, dai! Vieni a trea! Vale! Dai, vai! Sì, è qua! Dai, dai, che è un... Oh! Dai, dai, dai! 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 Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, che è un... Dai, dai, dai! Dai! Bravo! Dai! Bravo! Va bene, va bene, dai! Grazie.